Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Mi vedete già a maniche corte perché in questi giorni a Livorno sta facendo un caldo assurdo e visto che l'aria calda va verso l'alto, qui nel suo palco inizia già a essere veramente caldo e io addirittura mi sono messo già le prime notti a dormire a maniche corte. Comunque, banda alle ciance, vi presento Dracheris, gioco della Don't Panic Game, edizione italiana a cura di Cosmic Games, che ringrazio immensamente di cuore per avermi offerto la copia per la recensione e vi dico una cosa ora, ma ve la ricordo anche a fine video, ricordatevi che stanno facendo, l'avete visto anche nel titolo del video, stanno facendo un giveaway direttamente sulla pagina Facebook di loro, della Cosmic Games, l'editore italiano. Quindi vi lascio il primo link in descrizione, andate a cliccarci perché dovete lasciare like, condividere, però rischiate, in senso positivo, di portarvi a casa questa confezione che è lo starter set che vedete qui davanti, un centinaio di euro di roba. Quindi andate subito a farlo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Dracheris è un wargame, se non erro, ma ho letto diverse recensioni e informazioni, degli stessi autori di Confrontation, gioco che io in passato, vi giuro, ho adorato, ma anche, e non lo nascondo, molto più di altri giochi della GV o comunque giochi simili, perché il bello di Confrontation era un gioco sia di eserciti dopo il Ragnarok, che infatti quando è uscito hanno fallito hanno chiuso, perché non era fatto per quello, non era studiato per quello, ma soprattutto di schermaglie, dove con sei omini in campo, tra l'altro tutti i personaggi, non erano truppe, ti hai rifatto il tuo esercito, la tua warband, mettiamolo più così, sembrava più un Kill Team, ecco, raffigurato, o un Mordheim, ed era molto veloce, hanno fallito e tutto quanto, francesi, hanno fatto questo nuovo gioco, che ci hanno collaborato gli stessi sviluppatori di Confrontation, questo però è un gioco più di battaglie tra eserciti, però in versione un pochino più piccola, ristretta, di schermaglie, ovviamente per due giocatori, ci sono quattro eserciti di partenza, che sono un paladinato, gli orchi, gli elfi oscuri e i nani, poi ovviamente, sicuramente verranno ampliati, ed è un gioco veloce, come regole, ricorda molto poi alla fin fine, i wargame si assomigliano tutti come regole, quindi ricorda sia un power hammer, che anche tanti altri, anche war machine, e la cosa bella però è che ci sono delle forze in campo, quindi non ci sono, ci sono personaggi singoli, ma qui ci sono proprio il vero e proprio discorso delle unità, quindi un'unità si muove tutte insieme, col proprio capitano, con le proprie regole, con i propri bonus, a darsi manforte, ma la cosa importante è che è un gioco di schermaglie, quindi piccoli eserciti, si può andare anche a fare una partita da 400, 500 o anche più punti, però comunque saranno sempre piccoli gruppi, quindi delle schermaglie rispetto a delle battaglie su larga scala, e vi faccio vedere un pochino cosa c'è dentro, intanto iniziamo con l'unboxing, confezione del gioco, bella grande, più che altro bella grande, bella larga, perché poi non è spessissima, anche perché non c'è tantissima roba all'interno, comunque bella larga, e mi piace da morire il disegno che c'è sopra, proprio bello, fantasy estremo, comunque vedete con gli elementali, che sono comunque forze della natura, che potete, un mago, ovviamente un fantenò, potete evocare all'interno del gioco e vi daranno manforte, quindi anche bello il concetto della magia in questo gioco, molto molto particolare. Apriamo. Un riassunto di tutte le componenti che sono all'interno della scatola, un game mat, che poi è il tabellone di gioco, molto carino, tanto ora poi ve lo faccio vedere tutto quanto aperto, le miniature, qui nelle bustine divise per colori d'esercito, questi qui sono il paladinato, sono gli umani, che hanno anche dei minotauri che combattono per loro, ovviamente ragazzi tutto quello che vedete sono unità, quindi nel gioco ci si muove come unità, poi ci sono anche ovviamente gli eroi singoli, gli elementali in grigio, e gli eserciti degli orchi, che sono di una figata disumana, e lo dico subito, li riutilizzerò anche per altri giochi, soprattutto per Dungeon Saga ce li metto assolutamente, che sono veramente belli, sono già montati tutto quanto, e poi ci hanno dei pezzi che ve lo faccio vedere più avanti, la testa e le braccia che si possono staccare per riconvertirli e attaccare gli altri armi. Questa è una cosa molto carina perché almeno vi dà la varietà di farvi l'esercito come preferite, il regolamento di gioco, che è all'avvio rapido, quindi è il classico regolamento fatto molto semplice, che non vi dà tutte le regole, ma vi dà le cose introduttive per fare la prima partita, è inutile spiegarvi 700.000 cose se non ci avete mai giocato, quindi prima giocate con questo regolamento qui, questa è la tabella del tempo, che vi faccio vedere poi dopo, e questo è il regolamento della campagna, non soltanto ci sono tutte quante le missioni da giocare con i vari setup della campagna, perché questo gioco ha una storia, che è anche bella tra l'altro, ma ci sono anche regole aggiuntive, il time path, che è l'indicatore del tempo, che ora poi vi faccio vedere come funziona, ed è la cosa sicuramente più originale in assoluto di Dracarys, tutti quanti i token che servono per giocare, token stanchezza che servono per metterli accanto quando un'unità ha svolto il proprio turno, più altri vari token di condizioni e cose varie, misuratori per tutte le distanze che ci sono in gioco, movimento, magie, attacche a distanza, tipo frecce, archi e cose varie, e poi quassù vari token colorati per le missioni sul campo. Un altro po' di token qui intorno, questi praticamente sono i quattro elementi più il maelstrom, che potete mettere, anzi dovete mettere a seconda del setup della missione, questi nei pacchettini aggiuntivi li vendono anche proprio in 3D, e da questi praticamente potete andare ad attingere energia per lanciare incantesimi ed evocare gli elementali. Dadi di gioco, che sono quelli gialli che sono dadi da 10, e dado deviazione. Quindi per quando il gioco vi dice, ok, tira a distanza, con una distanza randomica, una direzione, scusate, randomica, voi tirate il dado da 10, che vi dice di quanti centimetri si sposta in che direzione il corpo. E poi un bel po' di carte con dentro tutte quante le unità, i repilogativi, la tabella azione, che è un'altra cosa importante del gioco, insomma tutte le carte e l'occorrente per giocare. Vi faccio vedere un po' come funziona. Questo è il campo di battaglia col mat, era un po', un po' molto piegato, ma è normale, appena tirato fuori dalla confezione con un cartoncino molto leggero, quindi si piega. Ci abbiamo messo statue egiziane di Ramses e di Nefertiti per tenerlo giù. Comunque, vedete, qui lo schieramento, le due fazioni che sono in gioco, il paladinato e gli orchi dall'altra parte. Ho messo accanto ai coscritti la loro carta, ai guerrieri orchi la loro carta, e di qua agli arcieri la loro carta. Più qui c'è la tabella delle azioni, vedete, divisa. Ne basterebbe anche soltanto una, però non hanno dovuto fare più belli, non hanno fatte divise per esercito. Quindi quella degli orchi e quella del paladinato. Loro sono ecoscritti, perché sono armati, vedete, con un'arma e con lo scudo, con un'arma e con lo scudo. Però, staccandogli le braccia e montandoli con pezzi differenti, potreste farli diventare alabardieri. Come vedete, alabarde e scudo. E quindi proprio vanno a cambiare caratteristiche e abilità, perché ora non ve le starò a descrivere, ma ciascuna unità ha anche le sue abilità. Non sono soltanto lì per picchiare e combattere con caratteristiche più o meno alte rispetto ai nemici, ma hanno anche delle abilità loro. Li potreste far diventare alabardieri. Oppure, allora, invece che mettere asce e scudo, potreste mettere due asce e diventano circa sangue. Oppure potreste mettergli i giavellotti e diventano cecchini, quindi iniziano a poter attaccare anche a distanza. E questa cosa, secondo me, è la più bellina di tutto il gioco, perché vi dà la possibilità di farvi l'esercito come volete. All'inizio della partita, ma è sempre, sempre spiegato nel setup, dovete mettere i vari elementi, che sono questi qua giù, che le regole dicono che devono essere distanziati di 10 cm l'uno dall'alto, quindi un giocatore ne mette uno, uno ne mette un altro, oppure, se è missione libera, è lo stesso manuale che vi dice come metterli, dovete andare a disporre questi quattro cosi colorati che servono per le unità, più che i personaggi sciamani che lanciano magie, per attingere potenziale e scagliare incantesimi. E sempre da questi cosi qua giù potete evocare gli stessi elementali. Dovete riuscire in un tiro di controllo e se riuscite a tirare fuori gli elementali, ovviamente gli elementali vi danno una mossa come rappresentazione fisica del potere magico e andranno ad attaccare i vostri nemici. Stessa cosa, il token, questo qui, del maelstrom, questi vi danno tot potenziale, perché per lanciare gli incantesimi, che poi sono queste carte qua giù, vedete, c'è ciclone, c'è tutto quanto, e ci sono scritte ovviamente le descrizioni, le gittate e quello che fa l'incantesimo, hanno sempre un costo in magia. Quindi, attingere da questi portali vi dà un tot di magia, ma nell'elemento. Quindi non puoi andare a attingere magia da un portale di un elemento che non è quello che ti serve a tirare un incantesimo. Mentre invece il maelstrom ti dà un casino di potenziale magico di tutti i tipi, quindi attingere acquitti di qualsiasi magia, però è rischioso. Quindi rischi che il mago ti esploda, oppure che l'unità subisca dei danni e cose del genere. È tipo la magia selvaggia. Le caratteristiche che vedete segnate qua su su una carta, quindi ciascun esercito alla sua, sono il numero di azioni che l'unità può fare nel turno, quindi due azioni, possono fare due movimenti, carica, attacco, possono fare tutte le azioni che vogliono, ma ogni azione ha un costo, che io poi ve la vado a descrivere. E lo stesso anche i nemici. La potenza, ovvero quanti dadi tirano, loro tirano un dado, soltanto quindi un accoscritto, gli orchi, essendo guerrieri più forti, ne tirano due. La salute, quindi le ferite che hanno, il livello di iniziativa, quindi sono più veloci, gli orchi sono un po' più lenti, i dadi che tirano in corpo a corpo e a distanza, loro sono solo da corpo a corpo e loro uguale, almeno che gli orchi non li facciate col giavellotto, quindi come avete visto hanno un'altra carta. La forza, quindi quando il colpo entra il quantitativo di danno, il valore di difesa che hanno, la disciplina, e qua giù in fondo dei valori, il valore di movimento e il valore di carica. Andate a prendere i misuratori e loro si spostano di 10, quindi ogni tacca conta 5, si sposterebbero di 10 e caricano di 15, quindi la distanza è presa dai misuratori. Stessa cosa per l'unità da tir a distanza, dove ad esempio loro sono arcieri e l'arco ha una citata di 50 cm, quindi tira tranquillamente fino all'aggiù, è praticamente più del doppio di questo misuratore qui. Il time path, che è la cosa in assoluto più importante di tutto il gioco, ve lo faccio vedere dopo, perché tutto, tutto, tutto il funzionamento del gioco è la cosa più carina di Rakeris, che lo differenzia rispetto a tanti altri wargame, è tutto qua. Quando si va a fare un movimento, ciascuna unità, ciascun omino, può essere massimo distanziato 2 cm l'uno dall'altro, però comunque non sono elementi singoli, dovete muoverli sempre come unità, quindi nel caso che loro vadano a fare una carica contro di loro, ovviamente glieli portate in corpo a corpo e cercate di disporli come unità, quindi non potete sicuramente fare una cosa del genere e andarle a cerchiare, cioè che le caricate dal fronte e le circondate, ma come se steste giocando ad esempio a Warhammer, li dovete mettere tutti accanto, quindi per quanto non hanno una basetta che li tiene tutti uniti, comunque dovete tenerli sempre vicini. Questo che vedete qui è un personaggio, questo qui nel mezzo, ce l'ho messo perché ora vi vado a far vedere una cosa. Di solito i personaggi si mettono davanti, quindi come capi dell'unità, perché danno un bonus se l'armata, la vostra armata, perde un combattimento, e quindi per i tiri di discipline e cose del genere. Ovviamente anche a tirare le loro caratteristiche, perché sono più forti rispetto a fanti normali. Quando qualcuno carica, bisogna fare il tiro d'iniziativa, perché non è detto per il fatto che stai caricando che tu attaccherai per primo, perché magari quelli di là ti aspettano con delle lance, tipo come faceva Wallace con la cavalleria inglese, e quindi anche se carichi attaccheranno loro per primi. Si va a vedere il valore d'iniziativa che è il fulmine, chi carica ha un più uno. Vabbè, già loro ci avrebbero tre, i coscritti, quindi batterebbero il due, però comunque hanno un valore appunto di quattro per il più uno della carica, e quindi vanno a quattro contro due. Vanno avanti e attaccano per primi. Se l'iniziativa fosse uguale per tutte e due, tre contro tre o quattro contro quattro, cose del genere, anche se muoiono avrebbero la possibilità di difendersi, e quindi di fare un attacco indietro. Mentre questa volta no, quelli morti non potranno contraattaccare. Ovviamente anche nello stesso turno, quando attaccate dei nemici, i nemici vi contraattaccano, non è che stanno fermi e aspettano il loro turno per fare qualcosa, con la differenza che quelli morti non potranno contribuire all'attacco. Se invece l'iniziativa fosse stata la stessa, sì, come vi avevo detto all'inizio, durante l'unboxing c'è il dado della direzione, perché a volte ci saranno magari incantesimi che dicono tira un dado per vedere in che direzione va il colpo, oppure anche armi da sedia e cose varie. Quindi voi dovete tirare il dado, misurare in centimetri e andare nella direzione della freccia. Quindi magari il colpo sarà stato deviato. Dopo aver deciso chi attacca prima e aver visto l'iniziativa, si va a tirare i dadi e si tira la potenza, che vedete che è questa qua giù. La potenza viene tirata attaccando ovviamente con tutta l'unità, perché tirano tutti quanti gli omini, attaccano anche quelli dietro, ma giustamente per il fatto che l'unità, non dovete vederla così scontrata, ma che comunque si passano attraverso e inizia un combattimento vero e proprio. Quindi si va a contare tutti gli omini che abbiamo, in questo caso ne abbiamo contandoci anche il campione, però il campione ora nel tiro di dado prendetelo come fosse un fante normale, poi vi dico dopo la regola del campione. Quindi noi andiamo a tirare dieci dadi. Andando a tirare i dieci dadi, perché vedete ne hanno uno a coscritto, si tirano questi dadi e si guardano i risultati. Come si fa a capire se abbiamo colpito oppure meno? Dovete prendere il valore di attacco della vostra truppa, che è questo qui, e il valore di attacco della truppa avversaria, che hanno tre. Vedete, quindi il vostro valore di attacco è tre, il loro valore di attacco, come il vostro, è tre. Quindi in questa tabella delle azioni dovete vedere se siete in positivo o in negativo, in pari, in questo caso tra i tre siamo pari. Quindi avete bisogno, siamo sullo zero, avete bisogno di un sei o più per colpire. Se ad esempio i nemici avessero avuto quattro nell'abilità di combattimento, andavate voi a meno uno, quindi avevate bisogno di un sette per colpire. Quindi tutti i dadi che abbiamo tirato prima, col sei o più, ne sono andati a segno uno, due, tre, e quest'altro qui, e quattro. Quindi su, ho fatto schifo, come sempre, io nei giochi di dadi faccio schifo, questi quattro colpi qui vanno a segno. Ora, bisogna vedere le ferite. Le ferite, stessa cosa, si calcola la forza della truppa, che è questo qui, con la difesa del nemico. Ora si va in negativo, perché noi abbiamo forza tre, il nemico ha difesa quattro, quindi abbiamo un meno uno, e abbiamo bisogno di un setto più. Questi quattro dadi si ritirano, vedete ragazzi, il gioco è veramente una vagianata, si ritirano, e non è andata a segno nemmeno uno, quindi non è successo niente. Ora, ovviamente, il nemico ha la possibilità di attaccarmi dietro, perché ovviamente si possono difendere. Stessa cosa, quando attaccate dalla distanza, attaccando dalla distanza, le truppe che avete avanti, non sono un blocco, se avete un edificio che copre completamente i nemici, non potete tirare, e per guardare le distanze, dovete sempre prendere dal capitano della vostra unità, e misurare da lui se vede il nemico. Se anche il capitano vede uno solo dei nemici, l'unità può tirare direttamente. Quando si va a tirare, vi ho ricordato prima che gli archi hanno distanza 50 cm. La difficoltà per andare a colpire è di 1 ogni 10 cm. Quindi, quant'è la distanza fra loro? Siamo a 20, più o meno qua giù, e ce ne metterei un altri 10. Siamo a distanza 30, quindi per ogni multiplo di 10, la difficoltà è di 1. 30 farebbe diviso 10, 3. La difficoltà è 3. Loro di abilità di tiro hanno 2, vedete, con l'arco, e tirano un dado a testa. Quindi, 2, perché non sono bravissimi come arcieri, 2, meno 3, si va a meno 1, quindi hanno bisogno di un 7 più per colpire. Vanno a fare il tiro per colpire, anche loro tireranno un dado a testa, e poi, la forza dell'attacco, è dovuta alla forza dell'arma, non questa che c'è scritto sopra, perché questa è per il corpo a corpo. La forza dell'arma, che in questo caso qui è 3. Quindi, andando a tirare 3, e loro resistenze hanno 4, tireranno sempre almeno 1, e dovranno fare 7 o più. Quando, quindi, queste sono tutte le regole del combattimento. Quando un'unità perde il combattimento, deve andare a fare un test di morale, che è questo qua giù, ed è un test di morale che la difficoltà per farlo è data da vari fattori. È data soprattutto se hai vinto o perso il combattimento. Se sei stato caricato, se hai subito ferite, quindi hai subito più ferite, dovete andargli a dare demalus, si va con questa difficoltà, sempre con la tabella delle azioni, a fare un tiro di disciplina, che se è fallito, c'è da andare a vedere una tabella sul manuale, perché magari rimanete lì e subite le danni, scappate e andate via dalla mappa, perché a volte proprio si ritirano, oppure venite completamente surclassati e distrutti. Il personaggio, se dentro l'unità, un personaggio speciale, o adiacente all'unità, ovviamente vi dà dei bonus alla disciplina. Stesse cose quando nelle vicinanze c'è un mago, uno stregone o cose del genere. E ci sono anche truppe speciali, come loro, guardate ragazzi, cavolo di figate, minotauri, del paladinato, e degli ogre da battaglia, immensi, dell'esercito degli orchi, che dovete usare sempre come unità. In questo gioco tutto si muove come unità. Oppure un personaggio speciale degli orchi, che è questo qui. Ricordatevi sempre, vi faccio vedere la parte più importante del gioco, che è quella della tabella del tempo. Questi qua giù sono i token missione, che dovete mettere in campo, magari, non lo so, questo è l'obiettivo degli orchi, che devono fare, questo rosso è l'obiettivo del paladinato, che devono portare a termine, perché nel gioco non c'è soltanto gli schiaffi, si può vincere anche a botte, ma non soltanto. E in più, quando un'unità ha finito le sue azioni, vi ricordo che le azioni dell'unità sono il primo valore qua su in cima con la stellina, quindi ne hanno due a testa, quando loro hanno fatto due azioni, gli mettete questo qui accanto, che è un token tipo di stanchezza. Quando magari anche tutte le altre truppe nel campo avranno fatto le loro una, due, tre azioni o più, quante sono, gli metterete sempre questo token qui accanto. Questa qui è la tabella del tempo e delle azioni che vedete a un punto di partenza start, ci mettete due token del genere, insomma, uno, scegliete un colore, uno per ogni esercito che è in campo, e ci sono le frecce che vi fanno vedere la strada da seguire. Sono 15 passi prima di concludere il giro e tornare allo start. All'inizio della partita, io faccio conto che i rossi sono il paladinato, quindi per decidere chi sarà il primo, si tira un di 10, ragazzi, per iniziativa, chi è il primo, chi ha fatto il risultato più alto, agisce per primo. Quindi facciamo conto che il paladinato sono i primi col coso rosso, col token rosso. Ora, bisogna muoverci a seconda del tempo che utilizziamo, e il tempo che utilizziamo è descritto nelle regole di gioco. Ve lo metto qui, ma tanto comunque è scritto bene nel manuale, vedete ogni azione ha un costo in tempo, tipo la marcia, l'attacco, la carica, la carica combinata, il tiro e la magia, e tutte le altre azioni che ci sono. Quindi, noi si va a fare sempre il conto per quello che abbiamo fatto, ricordandoci che le nostre truppe, almeno quello che vi ho fatto vedere, nella scatola di base avevano due azioni ciascuno. Quindi, con la prima azione hanno fatto un movimento, quindi un movimento costa uno di tempo, no? Ok? Quindi, sposta uno, e successivamente hanno fatto una carica, per arrivare in corpo a corpo. La car, perché non si può arrivare in corpo a corpo senza fare una carica, non ci potete arrivare durante la camminata e picchiarsi. Per andare in corpo a corpo ci deve sempre essere un'azione di carica, quindi arrivare in corpo a corpo costa tre. Successivamente, appunto, hanno fatto una carica, quindi si va avanti ancora di tre. Uno, due, e tre, ed hanno mosso per primi. Ora, regola vuole che a questo punto qui si muoverà sempre l'esercito che è ultimo sul tracciato e soprattutto quello che sta sopra lo stesso punto in caso di condivisione. Questo cosa vuol dire? Che ora, visto che noi si è fatto un punto per il movimento e tre per la carica, adesso abbiamo dato quattro punti tempo al nostro avversario di fare le sue cose. Se il nostro avversario facesse, ad esempio, come noi, movimento, ok? E carica e ha finito la sua azione con la truppa. Successivamente, visto che è sopra al nostro, perché quando si arriva a un punto si va sempre sopra, quello sopra regisce per primo, quindi ritoccherebbe a lui e potrebbe fare altre due azioni anche con la stessa unità. La cosa bella di questo gioco è che voi avete magari cinque unità, potete muovere per tutto il gioco sempre la stessa, però c'è una limitazione che ora vi dico, cioè più che altro c'è un malus. Potete muovere anche sempre la stessa, se vi piace. Quell'altro stanno fermi lì a prende il vento. Quindi magari mettiamo caso che rifà la stessa azione dopo perché questa unità l'ha distrutta, si muove, quindi uno, e carica, uno, due, tre, e va qua giù. Quindi ora ritoccherà un'altra volta il giocatore del paladinato perché è ultimo sul tracciato. Fino a che non ne arriverà a pari merito di punti, se arriverà a pari merito di sotto, ritocca a lui, perché è sempre sotto. Se arriva a pari merito, ritocca a lui. Se supera anche soltanto di uno, tocca invece a quello dietro. La cosa che ci viene incontro su questo time path sono, vi ricordate, i segnalini stanchezza che vi ho fatto vedere sulle truppe. Quando le truppe hanno finito il turno, o meglio, quando hanno fatto il numero di azioni massimo che possono fare, gliene mettete uno accanto. Quindi, se volete rimuovere quella truppa che è stanca, lo potete rifare tranquillamente con la differenza che tutte le azioni che farete vi costeranno sempre uno in più. Quindi, il movimento non costa più uno, ma costa due. La carica non costa più tre, ma costa quattro. Quindi, vedete, si inizia a sprecare veramente tanta resistenza. Le voglio riutilizzare perché mi riservano per fare un'altra cosa. Gli mettete anche il secondo accanto perché hanno fatto due movimenti e quando li tocca a voi li rimuovete. Con la differenza che questa volta tutto è maggiorato di due. Quindi, il movimento costa tre e così via, si va sempre oltre. Quando, di solito una partita finisce in sei turni, ma guardate il libro delle missioni. Quando i token fanno il giro e ritornano allo start, che è questo qua giù, c'è una fase di accampamento e di riposo dove le truppe possono togliersi un token stanchezza. Occhio, perché se la vostra truppa c'è una a due, uno lo togliete e uno gli rimane. Quindi, non le usate troppo. Cioè, ti puoi usare la stessa truppa anche venti volte, però poi quando c'hai venti token stanchezza ti ci vogliono che a fare un movimento non ti costa più uno, ti costa ventuno. Quindi, insomma, è da pensarci bene a queste cose. Ed è molto interessante perché più azioni fai più punti spendi, più azioni dà la possibilità di fare al tuo avversario. Ed è la cosa più bella che ho mai visto in un gioco del genere perché mi dà proprio l'idea vera e propria di essere un gioco in tempo reale. Azioni, reazione. Ragazzi, in poche parole questo Dracarys secondo me è un gioco veramente interessante. Primo discorso di tutti, il fatto dell'iniziativa, o meglio di dire, la ruota, del tempo, mi è piaciuta veramente tanto perché te più azioni fai, più azioni farà di conseguenza il tuo avversario. Meno azioni cerchi di fare o meglio meno punti tempo spendi, meno punti tempo spenderà il tuo avversario o magari riuscirai a fare anche più di un'azione. Quindi è molto interessante come regolamento perché proprio questo mi dà più l'idea di essere veramente in tempo reale. Cioè, mentre te fai i movimenti quell'altro deve fare sua. Poi anche il fatto di tirare l'iniziativa a un combattimento che se io vinco l'iniziativa su di te in corpo a corpo ti ammazzo e te non mi rispondi. Se invece l'iniziativa è contemporanea ti ammazzo però anche te hai il tempo di difenderti, di contraattaccare e quindi farmi dei danni indietro. Come regolamento è abbastanza veloce, c'è un po' da capire più che altro le meccaniche della magia e degli elementali che sono un pochino più complesse però comunque come regolamento funziona è divertente e poi le battaglie durano massimo massimo 45-60 minuti quindi anche molto veloce come gioco durante una carica massimo due cariche cioè t'hanno sfatto l'esercito quindi c'è da pensare bene agli spostamenti e tutto e poi le unità sono molto diversificate ho apprezzato da morire il fatto che non c'è bisogno di colla se ce la potete anche mettere se le volete reggere di più però non c'è bisogno di colla e addirittura magari un omino un fante perché qui sono unità con lo scudo e con la spada la volta dopo invece le mettete a lasciare due mani o la volta dopo le mettete due spade e cambiano proprio le regole quindi è una cosa molto carina interessante soprattutto dei personaggi speciali che da come le mettete cambiano proprio le caratteristiche magari una volta c'è l'orco con l'ascia a due mani che è il carnefice magari una volta dopo c'è l'orco con un tom in mano una cosa del genere dall'altra un bastone e magari diventa uno sciamano quindi è proprio interessante come gioco le meccaniche non sono fortemente innovative ma questa cosa della ruota del tempo invece almeno io personalmente non l'ho mai vista dalle altre parti mi è piaciuta veramente da morire quindi se le devo dare un voto a Dracarys sperando di vedere di più quindi altri eserciti magari altre regole soprattutto con la modalità campagna sperando che facciano dei veri e propri libri che portino avanti una storia perché anche è una cosa interessante come ha fatto chi il team della GV li do assolutamente un 8 su 10 e vi ricordo che se lo volete acquistare primo link in descrizione in sovraimpressione board game discount a migliori prezzi sul mercato e tra l'altro tutti quanti i loro giochi li potete pagare o in contanti subito o a rate spedizioni immediate quindi nel giro di 24 a 48 ore ce l'avete a casa primo link in descrizione dove acquistarlo più tutti quanti i nostri social a seguire vi ricordo scusate secondo link in descrizione il primo è il giveaway andatela a fare perché verrà estratta una scatola e verrà regalata questo start and set a chi vincerà tanto dovete andare lì cliccare like condividere alla pagina della Cosmic Games ci avete il primo link cliccate e ve lo lascio lì comodamente fatemi sapere cosa ne pensate è un gioco valido come wargame è veramente valido ciao ragazzi alla prossima